Possiamo dirlo, è completamente inadeguata. Una sanità pubblica che chiunque si sia trovato in Africa e non solo in questi paesi ha avuto modo di constatare con mano, è una sanità completamente a livello, come voglio dire, capace di poter contrastare un'epidemia di questo tipo. Quindi ritengo che questa debba essere un'occasione di riflessione e di ristabilire le priorità sull'utilizzo delle risorse, su come indirizzare i fondi pubblici perché la sanità pubblica è quella che più di altre può in casi come questi reagire e essere capace di circoscrivere un'epidemia. Laddove la sanità pubblica invece è indebolita, è trascurata, non riceve le dovute necessarie risorse, chiaramente poi succedono cose di questo genere perché tutti sono d'accordo sul fatto che è vero che la risposta internazionale è stata lenta, ma è anche vero che se c'è stata questa diffusione è perché non c'è in loco un sistema sanitario capace di circoscrivere il diffondersi dell'epidemia. Grazie.